Ciao a tutti bentornati o benvenuti sul mio canale Siamo qui oggi come avrete sicuramente letto dal titolo con un nuovo haul di Shane In questo haul abbiamo un pochino di cose misse tra una cosa per la casa, vari vestiti come al solito Un prodottino makeup barra skincare da cui direi di partire Ollietto per le labbra, alla mela, l'applicatore super huge è veramente gigante Mi va a prelevare tantissimo prodotto, lo devo un pochino scaricare E come profumazione sa di mela ma non la classica mela super dolce Sa più di mela tipo mela verde effettivamente un po' più esprina Non mi dispiace, forse avrei preferito la classica profumazione super dolce Però direi che ci sta Questa in realtà l'avevo presa per Halloween ma mi è arrivata solo ora Quindi o la utilizzerò nel resto della casa, in camera mia forse O direttamente il prossimo anno ad Halloween e sto parlando di questa lampada LED A forma di pipistrello con la luna, tipo c'è la luna fucsia e il pipistrello l'azzurrino La cosa super figa di questa lampada è che si può utilizzare sia semplicemente con una presa USB Sia con le batterie perché ha il suo adattatore Passiamo ora all'abbigliamento e direi di partire da questa gonna Che se avete visto il mio penso ultimo o il di Shane se non ricordo male L'avrete già vista perché io questa gonna l'avevo già presa Era una vestibilità super 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 stretta La mia solita XS mi entrava però non respiravo praticamente Ho fatto il reso e ho mandato a prendere una S Non mi soffermo più di tanto su questa perché ve ne avevo già parlato la scorsa volta È bellissima Gun con le ragnatele Questa è tutta nera appunto con le ragnatele fucsia ma sono super fucsia Dal sito sembravano tipo rosina Invece sono belle fucsie, sono super contenta di ciò Questa l'ho presa in XS ed è perfetta Questa ma a differenza dell'altra come potete vedere è elasticizzatissima Cosa nuova per questo haul Ho preso dei set Ho preso due set In realtà li ho messi nel carrello senza neanche rendermi conto che fossero set Perché spesso fanno vedere le cose abbinate su Shane Con altre cose che magari sono sempre sul sito Però appunto io ero interessata tra i miei set a due cose specifiche che avevano E mi sono accorto soltanto dopo aver fatto l'ortine che mi sarebbe arrivato tutto quanto Quindi io super contentissima Partiamo dal primo set che è composto da questo copre spalle Lo trovo super abbinabile con tutto anche perché comunque è nero quindi top Penso che questo sia sintetico però raga è morbidissimo Ed era abbinato con questa canottina bianca Che è ok sento bianca non lo so effettivamente quanto la metterò Però è super carina E cosa per cui ho preso questo set Cintura in pvc Questa è una cintura tipo underbust Da mettere con top Con abitini E la trovo super 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 carina Qua c'è anche puntina Che è un po' molle devo dire Però per il prezzo che aveva tutto quanto il set Perfetto Trovo veramente super carino E di tutto il set ho preso una xs Passiamo ora al prossimo set Che è anche l'ultimo pezzo del haul Penso che voglio aver preso più roba Ed è composto da questo top nero Con i gancini in fondo Con la scritta tricor Trid Perché trid vabbè E cosa per cui ho preso questo set Gondellina rossa Tutta tartan Io amo il tartan Amo il rosso Amo questo tipo di gondelline Lo sapete perché l'avevo già presa praticamente identica In versione fucsia Questa in realtà è un materiale diverso da quella fucsia Che è un po' più pesantina Mi sembra tipo un po' più di invernale Un po' più tipo in pannetto E anche di questo set ho preso una xs Va tutto perfettamente Ma anche di questo lo starete vedendo Tutto quanto Dalle clip indossate E nulla raga Questo era il mio shopping da Shane Per stavolta Fatemi sapere qual è stato il vostro pezzo preferito Io come al solito vi ricordo di andare a dare un'occhiata giù nell'info box Perché lì troverete tutti quanti i miei link Per andare a seguirmi anche sugli altri miei social Io vi mando un mega bacione E noi ci vediamo settimana prossima Con un nuovissimo video Ciao E noi ci vediamo Grazie a tutti